Prende il via domani a Sciacca fino all'11 settembre la settima edizione dello Sciacca Film Fest 2014. Rassegna concorso internazionale di lungometraggi, cortometraggi e documentari che si svolge nel complesso monumentale della Badia Grande di Piazza Noceto. Il festival è organizzato dall'Associazione Culturale Il Cortile e come ogni anno propone un concorso, incontri con scrittori ed editori, laboratori convegni, fiera dell'editoria, proiezioni e mostre. Quest'anno il festival diretto da Sino Caracappa si inserisce nel quadro dell'iniziativa La Strada degli Iscrittori, un percorso che abbraccia le terre che hanno ispirato importanti autori siciliani, un itinerario di circa 30 km da Racalmuto a Porto Empedocle, passando per Favara, Agrigento e fino a Caltanissetta.